ciao ragazzi buongiorno caso danilo di colle 21 molta gente già ci conosce in dieci anni abbiamo creato una gamma di prodotti che abbiamo cercato di coprire le varie esigenze dei vari modellisti molti ci hanno conosciuto grazie al nostro grande amico miggy minette dell'amo mig che vende i nostri prodotti in giro per il mondo oggi vi parlerò di 59 prodotti che sono usciti molte richieste alla siringa bicomponente per gli incollaggi estremi una pasta di componente premodellare una colla 21 dense una colla 21 gel e per ultimo un fermaviti nei prossimi video vi spiegherò bene 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 tutti i vari prodotti ok seguitici rimanete in contatto ciao ri buongiorno chiaramente tutti i prodotti li trovate sul nostro sito con la 21 puntocom per quanto riguarda la siringa di componente ok un 25 ml dotato di due prodotti con il suo tappo che chiaramente conserva bene prodotto ed è possibile utilizzarlo in più volte con questo tipo di colla voi fate tutti collaggi più 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 estremi ok quindi si versa il prodotto si mischia e si può spalmare per veramente come dicevo prima dei collaggi estremi ok questo lo trovate già nella nostra vetrina shop online con le 21 puntocom abbiamo creato una colla densa già la parola stessa densa vuol dire che è tra la liquida e la gel è molto è molto spessa permette veramente di non colare e di spalmarla nel vostro maquette o nel vostro bicolaggio senza che cola come le altre quindi vi dà tutto il tempo effettivamente per lavorare più 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 tranquilli e sempre nella composizione di 21 grammi ok e la trovate nel nostro shop online con la 21 puntocom il tappo è universale quindi potete adattare tutte tutte le nostre cannucce che trovate sul nostro sito ok al prossimo prodotto ciao ragazzi abbiamo creato la gel tanti anni fa l'avevamo già è stata molto molto richiesta poi avevamo smesso di produrla ma dopo tutte le varie richieste che ci avete fatto e l'abbiamo fatto riuscire la confezione di 20 grammi ok quindi più grande dell'altra con un dosatore molto 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 fine ok che vi permette di lavorare bene la gel chiaramente la parola stessa è molto 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 spessa per chi lavora in verticale per chi fa lavori che deve riempire delle esigenze un po particolari oppure ci sono veramente gli appassionati di gente anche questa la trovate sul nostro shop online con la 21 puntocom molti soprattutto nel campo delle macchine telecomandate aerei telecomandati quindi o nel bricolage ci hanno chiesto una colla ferma viti o ferma filetti ok questa con il suo beccuccio di precisione voi ne mettete una goccia prima di avvitare la vostra dietina una volta che voi fate la pressione nell'avvitare si blocca e nelle vibrazioni non tenderà a svitarsi quindi ottimo prodotto anche questo ne siamo fieri anche questo lo trovate già nel nostro sito con la 21 puntocom qualsiasi tipo di informazione chiamateci o scrivete vedremo tutte le informazioni grazie l'ultima nata la pasta purti epoxi 21 si presenta una forma cilindrica con bicomponente due prodotti che una volta mischiati nella lavorazione dopo qualche ora diventerà dura e molto solida ideale per i vostri modelli o bricolage perché è molto 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 resistente una volta che secca voi potete grattarla dipingerla e utilizzarla come volete anche questa la trovate sul nostro sito shop in line con la 21 puntocom non esitate a chiedere informazioni vi aspettiamo nei prossimi video e per i prossimi prodotti ok grazie a tutti